Il TPU V10-7 Sono Ronotte e oggi è 25 gennaio 2008 ciò che stai guardando è solo la unità tutta collegata ora puoi apprezzare meglio come è fatto quindi le 3 terminali sono tutte le interconnessioni e i condensori che vediamo sono i capaci di tank in modo di rendere il coil di input resonando sulle frequenze la piccola station qui è la station di potenza che è accoppiato con questo grande capacità dopo questo potete vedere la scuola in realtà non è preso perché è scelto che si è accoppiato e questi sono le mie oscilatorie station e 3 mangiamenti di potenza che ora Ora prenderò la scuola di riscaldamento e la servizia più bassa che è setta a 20 volt. Ok, ora è setta e la servizia più bassa, quindi nel totale ora sono 40 volti. Quindi qui sono 40 volti e potete vedere la lampa che è setta a scuola. E posso vedere una pulsazione molto lenta, circa 1 seconda, una più rapida, circa 8-10 seconda. La lampa è 60 watt, 230 volt. La lampa è vista sulla scuola, e potete apprezzare a 50 volti per divisione. La lampa è vista sulla scuola, circa 400 volti. La lampa è vista sulla scuola, circa 400 volti. La lampa è vista sulla scuola. Grazie a tutti.